Sono operative da una settimana due dottoresse messe a disposizione dall'Associazione L'Aquila per la vita a Lusca dell'Aquila grazie a una convenzione con la ASL, un tassello in più rispetto alla lotta contro il Covid. Le dottoresse Eva Maria Priori e Alessia Cipriani, dotate di macchine e di ecografo portatile e altre attrezzature, supporteranno Lusca, diretta dal dottor Antonio Santilli, seguendo a domicilio i pazienti Covid per tamponi e visite, una convenzione importante che ancora una volta mette al centro l'associazione, che in questo anno di Covid ha fatto tantissime iniziative a sostegno dell'ospedale San Salvatore. Questa volta abbiamo selezionato due giovani dottoresse che andranno a casa dei pazienti coordinate dall'Usca dell'ASL, con la quale abbiamo sottoscritto una convenzione, e saranno a fianchi dei pazienti Covid, a casa dei pazienti Covid, per supportarli da un punto di vista medico naturalmente, ma anche psicologico. Nel corso della mattinata è stato presentato anche uno studio scientifico finanziato dalla stessa associazione, è realizzato dal reparto di chirurgia, diretto dal dottor Roberto Vicentini, e sviluppato dalla dottoressa Beatrice Pessia sul tumore al pancreas. Un modo, ha detto il responsabile medico Paolo Aloisi, anche per ringraziare il dottor Vicentini, colpito lui stesso dal Covid nella prima ondata, e tutti i sanitari impegnati in prima linea in questa lotta. È uno studio scientifico al quale teniamo molto, è una piccola cosa rispetto alle altre cose che abbiamo finanziato, però ci sembra avere un valore simbolico molto grosso, nel senso che ci riavvicina alla tematica dell'oncologia, da un lato, e dall'altro lato è il valore per noi dell'Aquila per la vita e per la città dell'Aquila, di voler ringraziare in qualche modo gli operatori sanitari, medici e paramedici che si sono occupati di questa malattia in silenzio e con grande fatica e grande risplendio di energie. Il dottor Vicentini, che è il capo di questo studio che abbiamo presentato e che andrà su una rivista di impatto piuttosto elevato, di cui noi abbiamo finanziato la stampa, la pubblicazione, è una delle persone che è rimasta ferita e colpita dal Covid, quindi rappresentano per noi il ringraziamento della città e nostro a queste persone e a questi operatori.